Diminuisce il numero dei ricoverati in malattie infettive 44, fino a ieri erano 47, resta stabile quello dei ricoverati. In terapia intensiva sono meno di 200 nuovi positivi registrati nelle ultime 24 ore, infatti sono 191, dei quali 62 riscontrati a Gela, 56 a Caltanissetta. In totale a Caltanissetta sono 614 positivi, 15 ricoverati in malattie infettive e 2 i pazienti ricoverati nisseni. In terapia intensiva sono in tutto 3.900 i positivi in quarantena domiciliare in tutta la provincia. Anche Acquaviva Platani ha nuovamente dei positivi, si conta un paziente, fino a qualche giorno addietro era l'unico paese covid free.